Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Abbiamo visto nel video precedente che Matteo Renzi è salito al Quirinale per parlare con Mattarella. Quasi fosse lui il capo del governo che va a dare le dimissioni. Lui cerca di fare quello che non può fare, vorrebbe mandare via subito Conte ma non ci può. E allora va a parlare con Mattarella, diventato veramente ridicolo quest'uomo. Ma dicono che comunque è uno dei normali colloqui che ha tutti i giorni il capo dello Stato. Ma così in realtà non è. Al Quirinale cominciano a temere che la situazione sia peggiorata al punto da non lasciare prevedere un recupero facile tra Italia Viva e il governo. Ormai la situazione sarebbe compromessa a tal punto che non si può riattaccare neanche con una colla abbastanza forte. Quella colla che utilizzano i 5 Stelle e Conte per stare attaccati alle poltrone. Si parla di errori da matita blu del Premier che fino a qualche settimana fa liquidava la voglia di rimpasto di Renzi ma anche di Di Maio come ambizioni personali. Ma è proprio così. Sono proprio ambizioni personali. Aveva ragione il Giuseppi. Il problema è che da allora il governo ha perso colpi mostrando ritardi sui progetti del Fondo Europeo per la ripresa. Ritardi enormi anche se il governo dice non c'è nessun ritardo, non ce n'è Covid, non c'è nessun ritardo sui progetti perché dovevano essere consegnati il 15 di ottobre. Eh vabbè, ma in Europa la Germania l'ha consegnato ieri, ecco, quindi noi comunque neanche ieri l'abbiamo consegnato perché siamo comunque in ritardo di due mesi e mezzo e vogliamo essere a tutti i costi gli ultimi della classe di 27 paesi europei. Ce la puoi fare Giuseppi, puoi essere anche questa volta l'ultimo dell'Europa. E così il governo perde colpi in Italia e in Europa. Beh, in Italia e se Italia viva si è potuta infilare in questi malumori trasversali. Beh, l'ultimo incontro di ieri tra i Renziani e la delegazione di Renzi e il capo del governo è stata due ore di litigate programmate da Renzi. Tu rosato, parti tu, sistema Giuseppi, poi parte la Boschi, gliene dice quattro. Sono state due ore di aggressione politica a quest'uomo che comunque nella sua ipocrisia, nella sua falsità terribile continua a negare l'evidenza. La task force non è mai esistita. Ma tu volevi mettere, gli dicevano i Renziani, tu volevi mettere questa task force come un emendamento. No, non è mai esistita né la task force né l'emendamento. E c'era lì l'assistente, questo a me, che diceva, no, no, guarda, 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 che c'era proprio un emendamento. E Gualtieri dice, ma io non mi ricordo di aver letto quelle cose, non le ho lette. E la Boschi e la Belanova, ah, il ministro dell'economia che non ha neanche letto il recovery plan. Fantastico. Beh, insomma, sembrava molto più serio vederlo così il Gualtieri. Però, eh, insomma, le apparenze a volte ingannano. Bene. Intanto, anche nell'ultimo incontro, se le sono dette, come diciamo, di tutti i colori. L'incomunicabilità e la diffidenza erano palpabili. Più diffidenza che incomunicabilità. Perché parlavano su livelli differenti. C'era il Giuseppi che mentiva tranquillo spudoratamente, e gli altri che portavano degli argomenti che gli servono per avere le poltrone. Ecco. Diciamo che Renzi si è lamentato di non essere stato invitato a partecipare, perché, come nella grande bellezza, lui non vuole solo essere invitato alle feste. Lui vuole avere il potere di farle fallire, diceva Jeff Gambardella. Forse lui si sente un po' Jeff Gambardella, si sente un po' il capo del governo. Boh, non lo so esattamente che caspita si sente Renzi. Comunque, qualsiasi cosa lui si senta è spropositata rispetto a quel 2,5-3% che ha nei sondaggi. Il risultato è che rilanciare un'alleanza tra i due è ormai complicato. Non dico che area di crisi non c'è stata, dico semplicemente che la crisi non è nelle mie mani, dice Conte. Forse sta capendo, sebbene i suoi ritmi decisionali, almeno in apparenza, rimangono immutati. Il suo no di ieri a cedere il controllo dell'intelligence e le parole evasivamente negative sul mess magari fanno parte del negoziato, ma sono anche macigni che rischiano di rendere più impervio. Il tentativo di pacificazione della maggioranza. Nell'opposizione Salvini è convinto che comunque il governo ha le ore, ma più che le ore contate, ha le settimane contate. Difficile pensare che possono andare avanti altri due, tre anni in questo modo. È abbastanza difficile. Poi immaginate se realmente si arriva al semestre bianco dove comunque il governo non può più cadere, nel PD temono che Renzi a quel punto si metta di traverso, non gli faccia passare più neanche un provvedimento al Senato, facendogli bocciare tutte le leggi con fiducia che metterà Conte. Perché senza i voti di Conte i provvedimenti non passano, ma il governo non può neanche cadere. Quindi la maggioranza può andare sotto ogni giorno, ma non può cadere per legge. Pensate che tristezza un governo che vada avanti così. Ma se va avanti così, comunque sia, il governo non può cadere, ma Conte può dare le dimissioni. Di rio così non vado avanti. E così in quel modo Renzi arriverebbe al suo obiettivo che Mattarella metterebbe un altro presidente del Consiglio perché Conte comunque ha dato le dimissioni. Immaginatevi un governo che ogni cosa che propone cade, cade, decade, non ha i numeri in Parlamento. Un governo paralizzato che non può fare niente perché Renzi boccia tutto quanto. Questa è la paura che hanno nel PD. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook, nella pagina Teleitalia, nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete. e nella community del canale trovate anche sondaggi e altre notizie. Grazie nuovamente, se volete tra una ventina di minuti trovate un altro video. Grazie nuovamente, al prossimo. Grazie a tutti.